Eccoci ad un nuovo appuntamento. Oggi torno a parlarti di procrastinazione. In video passati ti ho parlato di che cos'è la procrastinazione e come superarla. Oggi voglio rispondere ad una domanda che mi viene posta molto di frequente. Esistono persone che tendono a procrastinare più di altre? Te lo spiego in questo video. Ciao, io sono Angelo e sono uno psicologo. Prima di entrare nel tema del video di oggi ti rubo qualche secondo per presentarmi. Amo fare divulgazione psicologica e a questo scopo ho aperto questo canale YouTube. Qui ti parlo di psicologia e ti insegno tante strategie utili per migliorare la tua autostima, le tue relazioni e in generale affrontare i problemi quotidiani grazie a piccole strategie psicologiche. Se ti interessa la psicologia, se sei appassionato di crescita personale devi assolutamente iscriverti al canale e mi raccomando non dimenticare di cliccare sulla campanellina delle notifiche così non perderai nessun video. Ma ora entriamo nel vivo del video di oggi e cominciamo a parlare di procrastinazione. Il problema della procrastinazione affligge tantissime persone. Molte persone quando si trovano ad affrontare problemi importanti nella vita, cambiamenti rilevanti, tendono a procrastinare. Molto spesso le persone mi chiedono aiuto perché prendono consapevolezza che la loro vita sta vivendo una situazione di stallo per troppo tempo. La paura del cambiamento, la tendenza a procrastinare le attività rilevanti, le porta a vivere un continuo stato presente senza possibilità di cambiamento. Questo, come puoi ben immaginare, può essere molto frustrante anche perché la persona può vedere lontano i propri obiettivi e non sapere come riuscire a raggiungerli. Nonostante ci sia il vivo desiderio di raggiungere l'obiettivo, la procrastinazione prende il sopravvento e blocca la vita dell'individuo. Quali sono le personalità che tendono a procrastinare più di altre? Oggi ti presenterò 5 personalità procrastinatrici, ma prima di iniziare è bene che specifichi che la classificazione che ti presento è solo teorica ed ha il solo scopo didattico. Come puoi immaginare, la complessità delle personalità porta ad essere procrastinatrici per più motivi. Io ho cercato di classificarteli allo scopo di rendere più utile la comprensione. Ma adesso entriamo nel vivo e cerchiamo di capire quali sono le 5 personalità procrastinatrici. La prima personalità che ti presento è quella evitante. Molte persone tendono a procrastinare perché vogliono evitare le situazioni. Se da un lato desiderano un cambiamento, desiderano affrontare la situazione, dall'altra parte vogliono evitarla. Ma è fondamentale sottolineare che le persone non vogliono evitare la situazione in quanto tale, ma cercano di evitare le sensazioni e le emozioni spiacevoli che le situazioni possono generare. Mi spiego meglio. Non è il cambiamento in sé a spaventare, ma l'idea di provare emozioni spiacevoli, di provare stress, di provare ansia, di provare paura. La persona evitante percepisce le emozioni come qualcosa di intollerabile, come qualcosa da non dover provare, come qualcosa dispiacevole che devono assolutamente allontanare. Per evitare le situazioni spiacevoli, per evitare le sensazioni intollerabili, allontanano anche la situazione. Evitano l'esperienza, quindi tendono a procrastinare. È un po' quello che succedeva a Tania, che era stata scelta da un'amica come testimoni di nozze. Nonostante il matrimonio fosse alle porte, la ragazza evitava continuamente di andare a comprare l'abito per l'avento. Quando abbiamo cercato di indagare più in profondità cosa la spingesse a procrastinare, lei mi disse che non voleva sentirsi a disagio. Avendo qualche chilo di troppo, ogni volta che entrava in un negozio per provare un abito, si sentiva a disagio e si sentiva brutta. Pur di non sentire queste sensazioni, di non provare queste emozioni spiacevoli, preferiva procrastinare. Questo è il classico esempio di come evitare delle emozioni spiacevoli porta tantissime persone a rimandare a tante situazioni, tanti competi, tanti impegni. La seconda personalità procrastinatrice è quella dubbiosa. Molte persone infatti tendono a rimandare a domani perché hanno bisogno di capire con attenzione quello che potrebbe accadere. Molte personalità procrastinatrici tendono a rimanere bloccati in un loop rimuginativo nel quale si chiedono in continuazione cosa accade se nella loro mente sviluppano tutti gli scenari possibili allo scopo di identificare qual è quello giusto. Purtroppo il meccanismo rimuginativo le porta a credere che tutte le opzioni sono giuste e il circolo vizioso ricomincia. La persona rimane così ingabbiata nei suoi circoli viziosi da non riuscire a prendere una decisione. Francesca era una procrastinatrice dubbiosa. Quando Giulio le ha chiesto di uscire e di frequentarsi lei ha cominciato a pensare in maniera rimuginativa? Cosa accadrà se lui mi tratterà male come ha fatto il mio ex? Come potrei reagire? Questo loop di pensieri le impediva di aprirsi ad una nuova relazione. Bloccata in questo rimuginio dubbioso la ragazza non riusciva a lasciarsi andare e a capire che ogni esperienza ogni relazione è diversa dalle altre. Un altro procrastinatore è il disorganizzato. La persona disorganizzata è quella che ha tantissimi impegni tutti importanti e urgenti. Questo è il tratto fondamentale del disorganizzato. Ha un elenco di attività che ritiene tutte importanti e tutte urgenti. Di conseguenza salta in continuazione da un impegno all'altro, da un'urgenza all'altra senza completare nessun compito. La persona disorganizzata tende a procrastinare perché non riesce a focalizzare la sua attenzione e il suo impegno su un compito per volta. Paolo aveva questo atteggiamento. Ogni volta che chiudeva l'ufficio la sera ripensava a ciò che aveva fatto e notava che non aveva concluso nessun compito. Aveva iniziato tante attività differenti ma non aveva portato a conclusione nessuna di esse. Ogni sera poi si riprometteva di essere più focalizzato il giorno dopo e di portare avanti più compiti contemporaneamente. Così li avrebbe risolti tutti. In realtà questo atteggiamento non faceva altro che far procrastinare ulteriormente gli impegni e far disperdere così la sua energia. Il modo migliore per affrontare questo genere di procrastinazione è organizzare gli impegni in maniera oggettiva a dividere tra gli impegni importanti, gli impegni urgenti, gli impegni meno importanti e meno urgenti. Riuscendo a focalizzare con più attenzione la propria concentrazione e il proprio impegno si riuscirà a superare la procrastinazione. Un altro procrastinatore seriale è il perfezionista. La persona tende a procrastinare perché per iniziare un'attività deve avere tutto perfetto. Tutto deve essere organizzato nella maniera impeccabile prima di iniziare un impegno. Era una procrastinatrice perfezionista Lucia che ogni volta che doveva cominciare a studiare per un esame pretendeva di avere tutto in ordine, di avere almeno un paio d'ore a disposizione, di avere a fianco a sé una tisana calda, il blocco per gli appunti e nessuno in casa che la disturbasse. Se da un lato tutti questi elementi le permettevano di studiare meglio, dall'altro le impedivano di studiare perché non sempre riuscì a avere tutto alla perfezione. La persona perfezionista va alla ricerca del momento migliore per iniziare, il momento migliore per prendere una decisione. In realtà non esiste il momento perfetto. Noi possiamo fare del nostro meglio in ogni momento della vita. L'ultima personalità procrastinatrice è il sopraffatto. è colui che sente di dover fare tantissime cose e soddisfare tantissime esigenze. La persona si sente sopraffatta dalle cose da fare. Questo la porta a sentirsi impotente, incapace, a non avere energia. La persona tende a procrastinare perché non si sente in grado di affrontare tutte le situazioni contemporaneamente. Il pensare di dover raggiungere tutti gli obiettivi porta la persona a sentirsi completamente scarica. Per superare questo genere di procrastinazione, come puoi immaginare, è fondamentale organizzare il materiale e gli obiettivi. Se tendi ad essere un procrastinatore sopraffatto, fermati un attimo, prendi un foglio e fai un elenco degli obiettivi che vuoi raggiungere. Successivamente mettili in ordine di importanza e focalizza la tua attenzione su un obiettivo per volta. Spero che questo articolo ti abbia aiutato a capire quali sono gli schemi di pensiero sottostanti la procrastinazione. Come ti ho detto all'inizio, è importante capire che queste personalità tendono ad influenzarsi a vicenda. La mia classificazione è al fine solamente didattico. Se hai delle domande, delle curiosità, puoi tranquillamente scrivere nei commenti. Poi ti consiglio di vedere questo video su come affrontare il cambiamento. Qui invece puoi cliccare per iscriverti al canale. E noi ci vediamo al prossimo appuntamento.